Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. In un vortice di emozioni e rivelazioni, Lorenzo Amoruso ha acceso i riflettori sulla sua vita amorosa con un gesto che parla direttamente al cuore. Nel giorno degli innamorati, ha scelto di condividere con il mondo l'amore che lo lega ad Afarin, la sua nuova compagna. Le immagini postate su Instagram mostrano un Amoruso visibilmente innamorato, accompagnate da parole che trasudano dolcezza e passione. Sei la mia gioia, la mia serenità, scrive, dipingendo Afarin come il sole che scalda il suo cuore e illumina il mondo con il suo sorriso. Questa dichiarazione d'amore apre una nuova pagina nella vita dell'ex calciatore, lasciandosi alle spalle una relazione passata con Manila Nazzaro, segnata da turbulenze e polemiche. Afarin, di cui si conosce poco a parte le sue origini iraniane, emerge come una figura misteriosa e affascinante, con un modesto seguito su Instagram ma una vita ricca di legami familiari e viaggi, con un amore particolare per l'Italia. Questa rivelazione ha scatenato un'ondata di affetto e supporto da parte dei fan, che vedono in questa nuova coppia una promessa di felicità. Dall'altra parte, Manila Nazzaro non è rimasta a guardare il passato. La showgirl, già pronta a voltare pagina, si appresta a celebrare il suo amore con Stefano Radei, ballerino e volto noto di Ballando con le stelle. La loro storia, nata all'improvviso e avanzata a passi da gigante, culminerà in un matrimonio il prossimo 13 maggio, un evento che promette di essere un'esplosione di gioia e celebrazione, con 150 invitati pronti a testimoniare il loro legame. Che ne pensate? Credevate anche voi in un ritorno di fiamma tra Manila e Lorenzo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale, e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie Grazie